Sicuramente se mi incontri oggi per strada sarai tra quelli che mi vogliono accorcare di botte oppure no, non lo so, a seconda se mi conosci già oppure no. Comunque allora rispondo molto semplicemente, quello che sto facendo in questo momento è tentare di trasformare in un mestiere, in un lavoro, l'attività che faccio qui sul web, in particolare su Twitch e su YouTube. Ma è una cosa di recente, diciamo, relativamente recente, anche se da un po' che mi ci diletto e da poco che è diventata, diciamo, quella cosa che tento dire, appunto di far diventare un mestiere. Fino a poco tempo fa ti avrei risposto, fino per essere chiari all'inizio della pandemia ti avrei risposto, sono un consulente di marketing, mi occupo di comunicazione e lavoro sul web. Ho iniziato, peraltro, come sviluppatore web molto tempo fa e quindi questo è quello che ho sempre fatto. Molto interessante nel tuo percorso personale, secondo me, è che hai studiato qualcosa di apparentemente non connesso a quello che fai oggi con soddisfazione. La stessa cosa l'ho vissuta anch'io personalmente, io sono storico dell'arte, quando dico che il mio lavoro è investire in start-up digitali, mi guardo e dico, ma che c'entra con la storia dell'arte? Da parte mia vedo una grande connessione, perché vedo tutto all'interno di un unico percorso di vita. Cos'è che ha portato te, da dove sei partito, cos'è che ti ha portato a dove sei oggi? Vedi continuità, discontinuità, come hai vissuto questa formazione? Allora, sì, confermo innanzitutto, ho studiato tutt'altro sempre, nel senso che mi sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni, che se vogliamo magari qualcosa un po' più a che fare ce lo può avere, però non ho voluto fare informatica anche se avrei potuto farla tranquillamente, forse sarebbe stata la cosa più naturale, all'istituto tecnico industriale di Stato, all'ITIS, potevo scegliere tra elettronica e informatica, quando ho dovuto scegliere penso che avessi un computer sotto le dita probabilmente già da tanto tempo, a che età sceglie, 15 anni? Quindi forse già da 11 anni avevo un computer sotto le dita, perché ce l'ho veramente da molto tempo, però ho scelto di fare altro. Dopodiché mi sono iscritto in ingegneria, ero spaziale, l'ho portata avanti fino ad un esame dalla fine e poi ho capito che volevo fare altro e l'ho mollata e quindi non sono ingegnere. Però se devo dirti la verità sono soddisfatto e contento di aver fatto questo percorso per mille motivi, soprattutto ingegneria devo dire, perché ti dà un metodo di lavoro che è fondamentale e soprattutto farla al Politecnico di Milano è stata quasi come entrare in un'accademia militare, cioè ci sono stati dei momenti in quel periodo veramente duri e credo che quello mi abbia dato parte perlomeno della forza con cui affronto quotidianamente il fatto di dovermi svegliare alle 6 per compilare la mia rassegna stampa, farla e non lamentarmi più di tanto. Considera che io vivevo, e tuttora, anche se in paesi diversi, ma vivevo a Bergamo, andavo a Milano quindi dovevo svegliarmi molto presto, tra l'altro allora non c'erano neanche treni con collegamenti brevi come adesso perché poi il dipartimento di aerospaziale era staccato, non era a Milano in centro dove c'è Piazza Leonardo dove c'è il Politecnico, era lontano, era in Bovisa e tuttora là, quindi erano due ore di viaggio ad andare bene, le volte in cui riuscivi a beccare le coincidenze, giusto fai conto, dura andare, dura tornare, più 8-9 ore a volte c'erano di lezioni di fila, una dietro l'altra questa cosa penso che sia stata abbastanza formativa, ecco, quindi sì, ho fatto tutt'altro ma tutto quello che ho imparato di ingegneria mi è tornato utile abbastanza facilmente e abbastanza, diciamo, in qualsiasi cosa ho fatto poi dopo, se non altro, quantomeno almeno l'impostazione, ecco Quando hai lasciato ingegneria, che cosa hai fatto? Qual era la tua motivazione? Perché comunque l'hai lasciata a un esame, praticamente alla fine, no? Il pensiero di molti, penso anche a chi ti sta intorno ma sarà stato, dai concludi, ti manca solo un esame, ma tu da che cosa eri attirato in quel momento? Ma in quel momento io ho avuto la fortuna e sfortuna di trovare una persona che faceva qualcosa di simile a quello che facevo io allora io in quel periodo, ripeto, era veramente tanti anni che avevo le mani in pasta nel mondo del web, eccetera ho pubblicato il primo sito fatto tutto da me, penso nel 2000 fosse il 2000, 2000 sì, era il 2000 credo quindi nell'arco di quegli anni, quando poi ho lasciato l'ingegneria aero spaziale era il 2010 ok, nell'arco di quei dieci anni avevo fatto tante cose, avevo imparato a fare tante cose tutte per me, avevo realizzato peraltro un portale, io facevo ai tempi aeromodellismo e quindi avevo realizzato un portale relativo a quell'attività che era diventato, ce n'erano due, uno era il mio e l'altro era un sito che c'è ancora che si chiama Barone Rosso, ma erano fondamentalmente due punti di riferimento sul web per l'aeromodellismo italiano, no? Tanto che recentemente ho trovato ancora negli archivi le riviste ci sono anche lì, ci sono due riviste di modellismo in Italia, una peraltro ha chiuso recentemente e mi ricordo che c'era uno scambio pubblicitario, quindi loro mi mettevano la mia locandina col sito, eccetera, io mettevo il loro banner, mi invitavano alle manifestazioni, alle fiere con lo stand sempre disponibili, eccetera quindi questa cosa l'avevo portata avanti perché mi interessava come strumento per fare queste cose qui, no? per fare questo sito, per fare altre cose poi però ero consapevole e cosciente che poteva anche diventare un lavoro ma ero sostanzialmente in quella fase in cui ritenevo per me impossibile riuscire a vendere anche soltanto una matita cioè pensavo che due cose non avrei mai saputo fare la grafica e il venditore ora sulla grafica ci avevo preso benissimo nel senso che proprio non è una cosa che mi si addice e la faccio fare a qualcun altro sulla vendita non ci avevo preso così tanto però ai tempi non lo sapevo quindi ho incontrato questa persona che a differenza mia invece era un po' meno tecnica un po' più un venditore poi si è rivelata una sola dopo qualche anno ma al momento si era venduto molto bene esatto e non solo a me anche a tanti altri che poi lo ricercavano inseguendolo con l'accetta però vabbè insomma a parte questo si era venduto bene e insieme abbiamo iniziato a fare i primi sitarelli da vendere e per me quello è stato il primo approccio diciamo con questa professione proprio in quanto professione e da lì la cosa è cresciuta per la verità abbastanza velocemente è cresciuta molto velocemente e è anche cresciuta tanto e quindi di fatto ho detto facciamo questa roba qui d'altra parte mi riesce bene la so fare la conosco e poi dopo è diventata la mia professione quando ho capito che potevo anche fare a meno del venditore e anzi forse potevo più efficacemente occuparmi di quella parte la grafica invece la lascio sempre ai professionisti quella è una cosa in cui sono negato è interessante inquadrare queste cose che ci stai raccontando anche in un contesto storico è assurdo come la memoria umana possa rimuovere delle cose accadute ma quando tu hai pubblicato il tuo primo sito nel 2000 eravamo in piena diciamo al culmine della cosiddetta bolla delle dot com cioè c'è stato un periodo tra il 95 e il 2000 in cui anche analogamente a quello che sta succedendo oggi con tema bitcoin, criptovalute c'era una vera e propria corsa all'oro che in questo caso era una corsa al sito per cui sembrava che avere un sito web fosse come avere un negozio fisico oppure un ufficio, un edificio e le grandi società dicevano beh mettiamo il nostro ufficio nel web e quelli che facevano i siti web si facevano pagare come se creassero un ufficio vero e proprio quindi quanto hai pagato l'ufficio in centro a Milano? ecco più o meno la stessa cosa mi deve sviluppare il sito web tutta questa cosa è cresciuta e cresciuta e cresciuta finché nel 2000 è esplosa tra lo scetticismo di molti se pensiamo che nel 95 ancora Bill Gates dichiarava pubblicamente non abbiamo messo dentro Windows 95 il browser perché sta cosa del web è una bolla e scoppierà quindi molti erano scettici rispetto allo sviluppo del web sembra assurdo oggi pensarci ma era proprio così e c'era un interesse commerciale, una corsa che poi si è arrestata bruscamente quindi era anche un momento non facilissimo perché era subito dopo l'esplosione di questa bolla era il crollo dei titoli in borsa delle più grandi società del mondo digitale e del web e invece tu sei riuscito a ricavarti un tuo spazio personale probabilmente basando il successo di questa impresa sulla qualità del prodotto e del servizio che offrivi quindi ti sei strutturato in una vera e propria agenzia e addirittura a un certo punto hai fatto un salto ulteriore cioè passare dai servizi alla consulenza, giusto? sì esatto, in realtà no, nell'agenzia non mi sono mai strutturato come un'agenzia ho sempre avuto delle persone chiave di riferimento magari a cui affidare qualche compito ma non ho mai avuto una struttura sono sempre stato effettivamente un libero professionista nel senso reale del termine cioè quello che ormai è difficile da trovare perché quella misura lì a metà tu hai o il cosiddetto freelance termine che aborro assolutamente, mi discosto il più possibile perché il freelance tipicamente è colui che lavora nell'agenzia web gli danno l'orario dalla mattina alle 8 devi essere qua stacchi alle 15 fai questo, fai quello e ti do i tuoi 100 euro e praticamente è un dipendente sotto mentite spoglie e tra l'altro lui in questa condizione è infelice quindi ha la partita IVA per necessità perché questo è quello che gli impongono di avere io non ho mai fatto un giorno della mia vita in un'agenzia ho collaborato con delle agenzie sempre da consulente o da libero professionista per poi scappare quindi anche con questo tipo di collaborazione sono scappato non ne ho aperta una ho sempre lavorato sostanzialmente da solo appoggiandomi a qualcuno appunto per parti di lavorazioni o per alcune cose che io da solo non potevo gestire poi effettivamente a un certo punto mi sono detto ma perché io sviluppo siti internet cioè posto che principalmente siti internet diciamo nell'ambito del web marketing poi ho fatto anche delle web application in ambito industriale perché sono a tuttora in funzione in alcune linee di produzione dell'industria pesante cosiddetta però è marginale ecco non è mai stata la mia attività principale principalmente nell'ambito quindi del web marketing e-commerce siti vetrina landing page progetti di questo tipo per la lead generation magari o in generale per la presentazione di un'azienda quindi seo eccetera eccetera allora la domanda ti sorge spontanea dopo un po' ma questa roba cosa serve? serve? davvero? se serve davvero come può essere migliorata? come può funzionare in modo diverso? allora studiando quelle cose lì chiaramente finisci in quell'ambito che più che altro è un girone infernale che si chiama marketing più o meno propriamente detto più o meno tradizionale più o meno declinato nelle sue varie forme contorte marketing digitale tutte queste cose qui ci finisci dentro e alla fine dici ah vabbè però alcune cose sembrano intelligenti e lo sono altre sono assolute locubrazioni mentali che servono semplicemente per vendere a sua volta il marketing è una merda per un motivo molto semplice che riassumo in una frase innanzitutto la barriera all'ingresso è bassissima quindi entrano cani e porci il secondo problema è che questi cani e porci generalmente entrano con l'obiettivo di imparare quel tanto che gli basta per poter rivendere la stessa pacottiglia che hanno comprato da qualcun altro a qualcun altro è una specie di schema ponzi legalizzato e inconsapevole tante volte per cui tu compri corsi per imparare a fare corsi per gli altri ecco sono fortunatamente riuscito a rimanere abbastanza ai margini anzi direi all'esterno di questo girone infernale però poi ho deciso di cercare di approcciare il problema da un po' più in alto quindi anziché arrivare sull'oggetto sito internet o web application o quello che è e vendere quello mi sono spostato un po' più indietro ho detto va bene cerchiamo di capire questa roba in che contesto si inserisce e da questo punto di vista e questo è stato diciamo il periodo bello e divertente ho collaborato con diverse aziende da consulente in alcuni casi addirittura quasi mi venne da dire da consulente aziendale nel senso che non era neanche più ormai una cosa limitata all'ambito del marketing perché ho fatto molto di più e lì insomma dall'alto abbiamo cercato di capire come fare le cose come strutturare l'offerta come appunto progettare i prodotti o i servizi di queste aziende in modo tale poi da renderli spendibili e vendibili principalmente online anche se poi mi sono trovato a fare cose anche offline poi è arrivato il coronavirus e ho detto sai che c'è mi sono rotto le palle e quindi proviamo a fare un'altra cosa permettimi Andrea di ripercorrere quello che ci ha raccontato perché ci sono degli elementi che secondo me sono paradigmatici e vanno assolutamente isolati e sottolineati anche a beneficio di tutti quelli che si trovano in uno degli stati che tu descrivi sto all'università sto facendo una cosa che sì mi piace però sento che c'è anche altro oppure sono indeciso non so se mollare magari devo prima obbligarmi a finire oppure ho delle competenze vedo che queste potrebbero andare sul mercato però non so se effettivamente potrebbe essere così è interessante il percorso che hai fatto perché nella parte di studio tu stesso hai detto che sei riuscito a imparare il metodo di studio il metodo di lavoro grazie alla durezza di quello che stavi vivendo anche una certa disciplina per poter la stessa disciplina che serviva per portare avanti un percorso accademico in ingegneria probabilmente oggi è quella che applichi per riuscire a portare avanti il tuo progetto sul web numero due le competenze che acquisisci in altri contesti tu l'hai fatto per il sito di aeromodellismo ma insomma c'è che io per esempio l'ho imparato a programmare in html sulle chat perché se no l'unico modo per sembrare figo con il colore che sottolineava il testo era saperlo scrivere con il tag html quindi l'ho imparato chiedendo agli altri ma come fai a mettere l'immagine ma come fai a cambiare il colore ecco molte volte delle cose che apprendiamo in contesti assolutamente separati da quelli che dovrebbero essere la nostra formazione lei dove ha studiato a Lombardi io l'ho imparato per fare il sito di aeromodellismo ed è bellissima questa cosa quelle competenze sono quelle che nel momento che stiamo vivendo fanno un fit un incastro migliore quelle che sono le esigenze del mercato e quindi ti sei trovato a lavorare fornendo prodotti e servizi l'hai fatto a due livelli diversi a livello del mi servono dieci pere tre mele quindi mi serve il sito web e io te lo faccio ma l'hai fatto anche un livello un pochino più alto più strategico per andando ad aiutare le persone a approcciarsi a questo mondo quando mi hai detto mi sono rotto le palle nel 2020 quando arriva del coronavirus ho detto ecco là c'è un altro elemento super paradigmatico che è il momento di crisi vissuto come momento di opportunità perché tu in realtà il tuo progetto stupendo l'avevi già in qualche modo cominciato a impastare però è stato un momento preciso nel 2020 che ti ha fatto fare il salto ti va di raccontarmi questo salto? sì assolutamente è stata una disgrazia e una fortuna cioè sì questa attività sul web diciamo intesa come mio progetto ho sempre avuto delle cose a margine mie in cui investivo più o meno tempo appunto inizialmente era questo sito di aeromodellismo che ad oggi penso che sia stata la cosa più di successo che si è riuscito mai a fare non so se mai riuscirò a eguagliare quei numeri che per gli anni che erano erano veramente incredibili io avevo c'erano 30.000 persone iscritte al mio forum di cui 15.000 tutti i giorni passavano sul sito cioè era un sito da 15.000 visite al giorno nel 2006 cioè questi sono i numeri anche un po' prima forse anche nel 2005 non so se facevi anche tu queste cose da malato tipo aprire google analytics in tempo reale e guardare le persone che ah guarda sono arrivati su questa pagina non c'era ancora google analytics o se c'era era proprio in real time php stats c'era però che era un self hosted service che tu installavi tra l'altro il php credo che sia proprio nato proprio per l'esigenza di statistiche infatti credo che derivi da personal homepage il nome il primo sviluppo di questo linguaggio è stato proprio un sistema di statistiche per verificare quanta gente passava su un sito web statico in html quindi sì php stats forse non so si esiste ancora non credo però era forse già un figlio un pronipote di quel embrione iniziale che ha dato inizio a quel linguaggio comunque quello poi a un certo punto sì all'università poi l'ho chiuso perché ho detto ma non mi interessa non c'ho voglia di starci dietro non ho tempo è stata una grandissima cazzata ma proprio una grande grande cazzata perché era monetizzabile in mille modi quel sito alla peggio si poteva prendere impacchettare e venderlo poi un'altra cosa hai lasciato andare sì esatto ma oggi esiste ancora no oggi non c'è più non c'è più o i file da qualche parte magari un giorno metterò una specie di museo però siccome non il museo di Andrea Lombardi ecco però anche no c'è ancora l'altro il concorrente che però è rimasto tecnologicamente fermo a 10 o 12 anni fa e quindi anche lì ci sarebbe anche spazio volendo però vabbè è andata dopo quello un'altra cosa che ho sempre seguito da vicino diciamo è la musica l'ambiente musicale eccetera perché vabbè da bambino suonavo un po' la batteria ma più che altro poi ho sempre circuitato intorno al mondo dei musicisti aiutavo a tenere una sala prove eccetera e quindi poi dopo ho realizzato siccome mi sono sempre piaciuti questi progetti editoriali online poi ho fatto una rivista online di musica modellismo.net baricentro sì quello baricentro baricentro.org sì vabbè mi sono sempre tenuto diciamo un piede accanto con un progetto mio più o meno importante a cui dedicare più o meno tempo nel 2018 ho detto sai che c'è io non so fare i video nel senso che non conosco niente della tecnologia video non so come funziona la codifica so che è complesso perché ci sono codifiche diverse non so neanche come sincronizzare un audio con un video non so nulla e soprattutto non so un'altra cosa ancora più importante ecco io sono iscritto a youtube dal 2005 credo con un account che non uso più che non è il mio che uso adesso però non l'ho mai usato cioè oltre che caricare il video del cane che mangia la lucertola che ho filmato in giardino col nokia n70 o cazzate di questo tipo sì avevo fatto un video che aveva fatto addirittura nel 2008 15.000 visualizzazioni in cui un mio amico mi insegnava cioè gli facevo fare un tutorial su come rollare le sigarette no ma proprio così a caso tra l'altro lui lo riconoscevano in giro per sta cosa vabbè però non mi sono mai interessato a youtube non l'ho mai seguito come social network ok non seguivo youtuber non ho niente di niente tranne pochissimi ogni tanto sporadicamente ho detto questa cosa è un problema cerchiamo di capire come funziona anche perché metti che mi serve per qualche cliente anzi potrebbe anche essere intelligente usarlo allora ho preso il mio iphone ho tirato un telo nero forse all'inizio neanche mi sono messo classicamente come fanno tutti davanti al muro bianco e ho iniziato a sproloquiare delle mie minchiate perché io da che ho ricordo seguo la politica seguo il mondo diciamo sì politico e dell'attualità e questo l'ho sempre fatto ne ho sempre parlato pubblicamente con tutti i mezzi possibili tranne che con il video e quindi da lì ho detto vediamo che succede metto le prime cose in verticale su facebook perché mi sembrava un'idea intelligente poi andiamo su youtube eccetera ma voglio dire è iniziato a diventare divertente facevo tutt'altro il lavoro era quello che ti dicevo prima questo era più una roba così da fare a tempo perso però nel tempo poi ho imparato un po' stare davanti a una camera a usare un microfono a montare un video a capire come funzionano i vari formati come cos'è il montaggio e tutti gli aspetti tecnici insomma e la cosa è cresciuta è cresciuta è diventata divertente bello forte figo con qualche piccola soddisfazione e nel mentre che io facevo questa cosa poi facevo il consulente per l'appunto e nel 2020 mi sono ritrovato nella condizione di avere un piccolissimo canale youtube da 5.000 iscritti e un lavoro che invece andava molto bene e che non avrei mai lasciato da un giorno all'altro così per dire adesso faccio lo youtube ma manco per niente proprio perché funzionava quel lavoro poi è successo che qua è crollato tutto io nota a margine sto a Bergamo peraltro proprio nella zona della Valle Seriana all'inizio dove c'è stato tutto il casino quindi ho tanti clienti diciamo in questa zona perché è molto industrializzata e quindi ci sono diverse imprese qui e tanti dei miei clienti sono da qui non li ho tutti da Bergamo ho anche clienti a Milano eccetera però con il periodo diciamo in quelle settimane in quei due mesi più o meno tutti hanno chiuso alcuni definitivamente altri no ovviamente però ne ho preso l'occasione per dire ma se invece questa roba funzionasse perché certo il lavoro funziona bene questa è un'attività che rende inutile nascondersi perché è così la consulenza in generale rende ma è sempre una lotta no perché va bene farsi pagare però alla fine tu fai progetti su progetti io ho 33 e 32 anni 33 quest'anno no ho che fare sempre ed esclusivamente per mia richiesta stringente con gli amministratori delle aziende perché se no è un bagno di sangue cioè non è che posso andare dal reparto marketing dove c'è uno piovuto da Marte che fa le fotocopie poi ogni tanto mette due immagini inguardabili su Instagram perché questo è lo stato della PMI no e quindi no allora ci riuscivo per carità però questi ti guardano come un loro figlio potenziale e probabilmente sei lì proprio perché il loro figlio non quello potenziale ma quello vero che poveraccio sta aspettando che il padre se li levi dalle palle si levi dei coglioni per prendersi l'azienda in qualche modo è riuscito a costringerlo o a convincerlo ma non è convinto si vede che non lo è che deve fare qualcosa sul web o magari non lo so che cazzo ne so ascolta Radio 24 e gli martellano il cervello alla fine ce l'ha questa e questo è un riflesso però nervoso quasi Pavlovian non è una vera consapevolezza no e quindi deve fare qualcosa ma lui la sa lunga più di te su tante cose sicuramente è così perché altrimenti farei io il suo mestiere che probabilmente è ancora più rimunerativo del mio però sulle cose che so fare io forse no e allora c'è questa lotta intestina quotidiana con questa gente a cui tu gli dici guarda secondo me stai facendo una cazzata dovresti farla così magari le prime volte ti seguono e poi però no gli parte sempre comunque quel nervo che gli dice no ma ho ragione io cazzo perché io ho fatto ho fatto questa azienda che produce case prefabbricate e lo so io come si fa cioè guarda ho fatto i miliardi negli ultimi trent'anni vuoi che non sappia come si fa impresa lo so benissimo ed è snervante io mi rompo le palle anche perché poi alla fine quello che succede è che molto spesso vabbè un po' devi fargliele passare perché non è che puoi avere sempre ragione tu nel senso che non puoi sempre fare quello che vuoi quindi hai sempre una contrattazione tipo suc e quindi ti do questo tu mi dai quello e mi diamo ma alla fine non funziona un cazzo così è quello il problema cioè non va e tu ci rimetti anche la faccia perché alla fine ti dice ah hai visto che non è quello che mi avevi detto sì però non hai fatto neanche quello che ti avevo proposto di fare e quindi questa situazione mi snerva mi fa venire la gastrite ingrassando poi la cassa della mia farmacista che non mi sta neanche particolarmente simpatica allora ho detto proviamo a fare quest'altra cosa che comunque mi fa venire la gastrite quindi questo è un problema che non ho ancora risolto però almeno faccio quello che voglio io più o meno perché poi ci sono di mezzi social media però più o meno fantastico fantastico senti hai descritto in maniera veramente magistrale questa la dinamica di chi lavora nella consulenza digital in Italia penso che la sostituzione rimarrà emblematica in secola secolorum perché siamo al vero e proprio scontro tra neanche tra persone che fanno lavori diversi è proprio lo scontro tra un modo di pensare di agire pre-digitale e uno post-digitale che probabilmente non entreranno mai in un terreno comune d'accordo se non per i pochi casi in cui camminare insieme fa fare i soldi o all'uno o all'altro ed è veramente bello che tu abbia potuto portare convogliare questo il tuo desiderio di sviluppare un progetto intorno a quello che è la tua passione da sempre anche in maniera molto disincantata cioè non ah ok ora sviluppo il business sulla mia passione ma sapendo che una scelta come quella che hai fatto porta necessariamente a dei compromessi anche dal punto di vista economico perché il grano non è che non è che puoi fare il salto da un contesto all'altro avendo le chiappe parate da tutte e due le parti e devi comunque affrontare un salto dall'una all'altra parte e questo progetto inizialmente l'hai portato avanti su youtube se non vado errato mentre ora stai spingendo molto più su twitch come mai sai c'è un principio basilare di chi fa questo mestiere che conosci sicuramente e spero che conoscano tutti ed è che non ti devi attaccare le piattaforme perché le piattaforme sono delle zozze per utilizzare un linguaggio diciamo inclusivo il fatto è che giusta allora premessa giustamente ognuno fa i propri interessi lo fa google lo fa quindi youtube lo fa amazon quindi twitch facebook twitter eccetera quindi di base diciamo che c'è già questo fattore per cui finché gli fai guadagnare allora va bene che stai lì quando c'è qualcun altro che li fa guadagnare più di te privilegieranno quel qualcun altro e questo è abbastanza normale ma è un principio che vale per qualsiasi cosa e quindi bisogna già mettersi in testa che facendo questa cosa online uno deve essere pronto a saltare da una parte all'altra o quantomeno non sembrando schizofrenico però insomma non mettendosi troppi freni nel dire passo da qui a là perché qui ci sono nato e cresciuto qui ho le mie radici senza emulare discorsi famosi italiani però insomma ecco bisogna essere abbastanza pronti a cambiare quando le condizioni del mercato lo richiedono e questa è la prima parte non è esattamente il mio caso nel senso che il mio caso per quanto mi riguarda youtube va ancora benissimo ed è una bella piattaforma ho avuto dei problemi molto semplicemente con youtube perché trattando temi considerati a torto o a ragione sensibili che poi quindi temi politici o più specificatamente magari riguardanti alcune vicende giudiziarie che coinvolgono magari anche crimini particolarmente ferati eccetera che però hanno sempre un risvolto politico diciamo lì affronto per quel motivo non tanto per l'aspetto criminale che non mi interessa particolarmente ecco che mi sono ritrovato con tanti 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 video non solo demonetizzati che è il meno anche perché pure da questo punto di vista penso che diciamo il modello di business debba essere un po' più non puoi basarti sulla monetizzazione di youtube perché sennò è morta in partenza però più che più che demonetizzati questi video sono stati letteralmente azzoppati da youtube mi sono reso conto che è sostanzialmente impossibile letteralmente impossibile per chi fa un'attività come la mia quindi si occupa di temi come i miei non è possibile accedere alla ricerca youtube è il secondo motore di ricerca del mondo dopo google tu non puoi posizionarti su chiavi di ricerca che hanno a che fare con questioni politiche spesso anche economiche scandali giudiziari cose di questo tipo la ricerca ti è preclusa emergono in quei risultati soltanto grandi gruppi editoriali rcs l'espresso giornali di questo tipo insomma generale giornali tradizionali ecco per capirci o comunque gruppi editoriali di riconosciuta di cui marchio è riconosciuto tutti gli altri sono esclusi e quindi mi sono detto ma perché devo stare qui se tutto mi rema contro la piattaforma mi rema contro e quindi ho detto proviamo ad andare su twitch che non mi è mai piaciuto l'ho sempre schifato abbastanza l'ho sempre insultato insultò la piattaforma che ci sta sopra chi segue i canali ma perché perché twitch ha la nomea ed è la verità di essere estremamente punitivo nei confronti di chi utilizza un linguaggio che non gli piace al punto da punire le parole ecco una cosa che io veramente non comprendo e mal sopporto è questa no perché le parole cioè quelli che bruciavano i libri non è che hanno fatto una grande fine nella storia eppure bruciare i libri o diciamo censurare le parole mi sembrano più o meno lo stesso concetto però devo dire che stante questa che è una realtà perché così funziona tutto il resto mi pare che mi stia dando delle soddisfazioni al momento è stato anche questo un altro salto nel buio perché sai tu fai una rassegna stampa che ha magari nei momenti di picco anche 450 persone che per me sono tante che ti seguono contemporaneamente su youtube poi il mio pubblico è abbastanza in su con l'età e quindi dici riuscirò a trasportarli su twitch non tutti chiaramente però molti di più di quelli che mi aspettavo mi hanno seguito e quindi questo è stato il motivo e diciamo il modo in cui si è sviluppata questa cosa ora non ti voglio elevare all'onore degli altari però le cose che hai detto sono fottutamente giuste e fottutamente ignorate da la maggior parte delle persone che si lanciano in progetti di comunicazione per cui io da grande voglio fare lo youtuber e io rispondo con un francesissimo sto cazzo a questo tipo di affermazione perché perché se ti sposi alla piattaforma sei un parassita cioè quello che vive nutrendosi del sistema di vita di un altro essere più grande di lui di solito è il parassita è il pidocchio che succhia il sangue del suo ospite e come parassita non sempre vieni trattato come dire come l'ospite importante sei uno dei tanti nel migliore dei casi quindi non affezionarsi alla piattaforma è una cosa fondamentale importantissima riuscire a portare le persone dalla piattaforma da una piattaforma all'altra laddove questo diciamo laddove vengono a mancare i benefici della visibilità come nel tuo caso nel non essere possibile emergere per la parte di ricerca o nel venire penalizzato per trattare determinati temi o laddove non vengono dati i benefici dal punto di vista della monetizzazione è un'altra cosa fondamentale quindi non sono schiavo della piattaforma sì su youtube ci sono le persone che mi seguono ma non mi seguono i miei iscritti mi seguono le persone gli esseri umani le teste che si spera siano pensanti quindi se io ho quella testa e gli dico senti da domani non sto qua sto da un'altra parte ecco questo è un test che molti fanno e ci rimangono scottati perché non si rendono conto che loro funzionano solo come parassiti quando poi evocano l'autonomia della persona dicendo guarda sei importante per te quello che stiamo facendo vieni da un'altra parte se ne perdono se ne perdono moltissimi e tu mi hai detto che non te ne sei persi vuol dire che sei riuscito attraverso il lavoro che hai fatto di costruzione della community anche a assicurarti che ti seguano persone con il cervello e con la possibilità di venirti dietro perché quello che tu stai facendo per loro è importante ma la terza cosa che hai fatto e che vorrei che mi raccontassi è sovvertire completamente questa dinamica in cui il creator il creatore di contenuti il comunicatore chiamalo come te pare è un numero all'interno della piattaforma tu hai creato un social network cioè un social network tuo sei diventata tu la piattaforma come ti è venuta questa idea e come funziona questo social network sì ho creato una mia piattaforma che ha la struttura di un social network che funziona di base come un social network a un certo punto e quindi ho detto ma proviamo a spostare della gente qua sopra vediamo perché ecco mi sono trovato nella condizione di trovarmi con dei contenuti rimossi dalle piattaforme perché secondo loro erano in contrasto con le linee guida secondo me non lo erano ma purtroppo non c'è come nella realtà quando c'è nel mondo reale cosiddetto ci sono due persone che non sono d'accordo c'è un terzo che fa da giudice e quindi stabilisce chi ha ragione qua non è possibile qua loro ti mettono o meglio non è possibile dovresti uscire da questo mondo entrare in quello vero e dirgli guarda ti faccio causa perché mi hai cancellato il post su instagram dici che violava il tuo regolamento e termini di servizio non è vero e quindi adesso ti chiedo i danni fa ridere è possibile poi fa ridere a me per quello che faccio io ecco se fossi qualcun altro con altri numeri e con altri risvolti forse non farebbe così tanto ridere forse avrebbe se fossi un editore con degli avvocati stipendiati che non savano che altro fare sarebbe facile ma soprattutto se quel contenuto effettivamente ha un valore economico che sia oggettivo e facilmente dimostrabile quindi non è tanto il post dove io dico come la penso su una cosa o racconto una notizia ma magari un post con cui vendo un libro o con cui sto ecco facendo qualcosa di diverso potrebbe non fare così ridere ok ecco quindi ho detto a un certo punto sai che c'è mi faccio la mia piccola piattaforma anche perché ecco se fossi Chiara Ferragni per esempio potrebbe essere anche perché per quello che abbiamo detto prima uno non può spuntare sulla monetizzazione di YouTube oggi magari quella di Twitch che paga molto di più domani chissà quale però ecco non puoi basarti soltanto su quello che ti lasciano gli altri che hanno potere contrattuale imparagonabile al tuo che hanno dinamiche di un certo tipo che stabiliscono più o meno liberamente perché non sono poi così tanto liberi nello stabilire questa cosa quali contenuti possono essere monetizzati e quali no e che stabiliscono una serie di regole che tu magari vorresti gestire diversamente allora l'unico modo per sfuggire da questa cosa è sfruttare queste piattaforme perché ti danno effettivamente possibilità di visibilità e questa è una trappola in cui siamo caduti 15 anni fa ma magari ne parliamo dopo e te ne fai una una tua così ho fatto siccome ho appunto alle spalle tanti anni di sviluppo me la sono fatta da solo ma poi a un certo punto perché poi sono un po' di moduli un po' di framework e un po' di plug-in messi insieme per realizzare questa piattaforma che io ho chiamato Pantoprazolo Club per l'appunto perché come vi ho accennato qualche problema con lo stomaco ce l'ho ecco e peraltro anche il nome della rassegna quindi è stata un'idea diciamo di mettere insieme un po' di cose l'accesso al suo abbonamento ovviamente a pagamento le persone si iscrivono iscrivendosi abbonando si sanno che supportano il progetto e hanno accesso a questa piattaforma che è in continuo sviluppo è una specie di cantiere aperto perché sto continuando a reaggiungere disfare vedere un po' come funzionano le varie cose lo scopo quindi è duplice avere una community stabile di persone che sono realmente interessate che ti supportano da una parte la seconda cosa importante è aggiungere questo pezzo che poi dovrà diventare fondamentale nel tempo al business plan proprio quindi dal punto di vista proprio anche del revenue stream quindi di come guadagno i soldi alla fine ecco sui dettagli tecnici non ti tedio nel senso che è un'installazione wordpress con alcune cose sopra è abbastanza semplice per la verità però mi consente diciamo di avere tutte le funzionalità di un facebook base quindi vari gruppi la possibilità di entrare postare dei link che compongono in automatico uno snippet commentare caricare video per ora solo io poi anche gli altri potranno farlo eccetera eccetera comunque è una cosa che si può fare non c'è bisogno di essere microsoft per fare una roba del genere no dipende dal livello a cui le vuoi portare ecco io ci ho messo un bel po' di tempo per automatizzare tutta una serie di cose quindi c'è tutto uno script che si collega all'api di paypal va a vedere chi ha pagato quando come disabilita in automatico gli account manda le notifiche questo è un po' complesso è un po' complesso da configurare una serie di cose ma diciamo che ha un livello base abbastanza alla portata è come se fosse Patreon però l'hai sviluppato tu esatto esattamente e questo dal punto di vista del modello di business cosa bisogna fare per entrare nel Pantoprazzolo Club dal punto di vista dell'utente si dell'utente dell'abbonato è molto semplice va su Pantoprazzolo.club c'è la possibilità di scegliere un piano annuale oppure mensile clicca sul bottone di paypal e fa tutto paypal quindi è un abbonamento tramite paypal e quindi vuol dire che te lo puoi gestire direttamente dal tuo account lo puoi disattivare direttamente dal tuo account paypal senza andare sul sito quindi potenzialmente anche dovesse esplodere il server tu mantieni il controllo di tutta la parte economica una volta che ti sei iscritto io genero l'account o lo riabilito se c'era già e magari era scaduto nel frattempo e poi l'hai rinnovato dopo mesi l'hai riacceso ti arriva la notifica cambi la password entri e stai dentro fino a quando hai pagato quando hai finito di pagare non vuoi più pagare hai annullato l'abbonamento il sistema lo sa traccia il tuo ultimo pagamento sa se era mensile annuale e ti toglie l'account e ti ricorda guarda che perché magari qualcuno poi in realtà voleva continuare a rimanere abbonato ma gli sono finiti i soldi sul conto paypal e tutto sotto controllo con un sistema di mail è molto semplice per la verità il meccanismo quanto costa far parte del Pantoprazzolo Club e hai previsto la possibilità per le persone di partecipare a prescindere da quello che tu hai indicato come il prezzo di ingresso allora io ho seguito mi sono fatto un po' di conti io vi ho trovato una formula che è casualmente ma non so se è casuale non l'ho copiata da loro però non so se abbiamo fatto lo stesso ragionamento comunque mi sono arrivato alla conclusione di applicare gli stessi prezzi che applica l'abbonamento del post.it loro ti fanno pagare 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno io facendo i miei calcoli separatamente sono giunto alla stessa formulazione quindi ho applicato lo stesso prezzo 8 euro al mese 80 euro all'anno non volevo fare anche edelmente non mi piace i 3 euro al mese che tanti youtuber chiedono per aggiungerti al gruppo telegram non mi interessa il gruppo telegram ce l'ho è gratis per chiunque voglia entrarci non ritengo necessario doverlo monetizzare volevo fare una cosa diversa un po' più alta sia come prezzo sia come offerta però e quindi alla fine facendo dei conti ho scelto questo pricing che è standard per tutti al momento forse ci sarà la possibilità che abiliteremo insieme ad altre persone sto facendo una specie di side project diciamo e potrebbe essere che quello che è proprio tutt'altra cosa però passa per il Pantoprazzolo Club e però avrà un abbonamento a parte sicuramente più costoso perché è proprio una cosa diversa la possibilità di entrare senza abbonarsi è possibile ma è possibile sotto determinate circostanze cioè come puoi intuire la gente si abbona innanzitutto perché vuole contribuire al progetto perché gli piace quello che faccio e quindi vuole sapere che continuerò a farlo e dà una mano affinché ciò possa avvenire e questo secondo me è il primo driver il secondo driver è ok ho anche uno strumento figo con delle cose sopra con delle altre persone che sono come me ecco però come puoi immaginare aprire un social network da zero non è esattamente un'impresa semplice perché non è come aprire un giornale online dove tu devi prenderti l'impegno di prendere e scrivere dei contenuti qua quello che devi raggiungere è l'interazione tra le persone e non è facile è tutt'altro che facile e quindi chiaramente io sono sempre disponibile a dare anche gratuitamente l'accesso a chi mi dà una mano a coltivare la community quindi a chi mi dà una mano a tenere l'attenzione alta ed è quello che sto facendo anche in questi giorni ho predisposto proprio sul club un form in cui chiedo due dati nome email e telefono giusto per sapere di avere a che fare con una persona vera che non mente e una spiegazione di guarda non chiederti cosa il tuo paese può fare per te chiediti quello che tu puoi fare per il tuo paese ecco faccio la stessa domanda nell'ambito del club ovviamente così poi valuto e se qualcuno mi sembra particolarmente interessante gli dico va bene sali a bordo per una settimana un mese sei mesi e stai lì perché comunque mi stai dando una mano dal punto di vista dei contenuti se sei uno che vuole divulgare la sua idea di mondo oppure è interessato a determinati temi e vuole parlarne ecco guardiamo il percorso che hai fatto in termini puramente strategici per poterlo comprendere meglio e per comprenderne il valore dal punto di vista dell'utilizzo consapevole del mondo digitale abbiamo una prima fase del progetto in cui si va fuori sui social media sulle piattaforme ok vado su youtube poi a un certo punto mi accorgo ma questo forse lo sapevo già da prima però me ne accorgo in maniera particolare che su youtube all'interno di una piattaforma il mio progetto rischia di giocare il gioco di qualcuno di quello che governa la piattaforma quindi essere una pedina in mano a qualcun altro non mi da grandi vantaggi né dal punto di vista economico né dalla visibilità o meglio non da quelli che potrebbe darmi vado su un'altra piattaforma posso sono indipendente perché riesco in qualche modo non so se tu già al tempo avevi la possibilità di entrare in contatto diretto con le persone cioè come gli hai detto alle persone venite da youtube su twitch avevi raccolto le loro email ma anche e l'ho fatto tramite quello ma glielo ho detto anche tranquillamente da youtube proprio ok perfetto quindi ci sono altre piattaforme come twitch che hanno modelli di business leggermente differenti su youtube tu detto proprio alla cafona devi portare lì mille paia di occhi per riuscire a portare in cassa un euro su twitch ma anche dal punto di vista del modello di business è interessante perché ogni singola persona che si abbona al tuo canale comunque te ne porta in cassa 2 euro e 50 più o meno a spanne perché dei 5 euro che paga la persona per abbonarsi poi ci sono tutti i vari livelli però dei 5 euro si fa 50-50 questo secondo me è molto bello da due punti di vista uno perché la piattaforma non mi dice guarda tu portali le persone in un rapporto da uno a uno quindi ci sei tu c'è il tuo pubblico e poi io vendo l'attenzione del tuo pubblico con una bella interruzione pubblicitaria a una terza persona e quindi creo un triangolo mi piace molto di twitch che dice no c'è chi fa il contenuto chi fruisce il contenuto e grazie al riconoscimento di questo valore si può creare un abbonamento quindi non c'è un triangolo ma c'è un rapporto a due bene su questo schema qui che quindi potenzialmente è super più appetibile per un creatore di contenuti perché puoi fare quello che dovresti fare con 2500 visualizzazioni lo puoi fare semplicemente con una persona che decide che quel canale quella live che stai vedendo ha un valore per lei e sia buona quindi potenzialmente molto più importante bene neanche questo schema qui in qualche modo è di qualità inferiore a quello che hai scelto tu in ultima analisi che è quello della creazione di una community o potremmo chiamarla membership alcuni la chiamano membership cioè rivolgersi a prescindere dalla piattaforma che distribuisce i miei contenuti perché le piattaforme che distribuiscono i contenuti benvengono sarebbe uno sbattone per te mettere lo streaming su un tuo server sarebbe forse impensabile dal punto di vista delle risorse quindi le piattaforme di distribuzione dei contenuti rimangono quelle che gli vogliamo bene youtube twitch tutto a posto ma loro fanno la distribuzione il modello di business e la parte di relazione sia dal punto di vista di comunicazione quindi i messaggi che ci scambiamo la possibilità di scambiarci contenuti sia dal punto di vista della monetizzazione quindi la tua possibilità di supportare il mio lavoro stanno da un'altra parte in modo che se mi vuoi censurare un contenuto non vai a influire sulla mia capacità di comunicare col mio pubblico se ti girano le scatole e cambi le carte in tavola non vai a influire sulla mia possibilità di monetizzare cioè banalmente non mi puoi chiudere il canale e di colpo io mi ritrovo in mutande perché non posso più riscattare i miei abbonamenti e questo è fondamentale per tutti coloro che vogliono costruire una cosa online cioè tu hai hai detto quell'attenzione alle persone si è riflessa nello sviluppo del modello di business cioè nel dire ok io queste persone me le porto in un posto che è libero perché la bellezza del web l'open web oggi se ne parla poco non so perché perché secondo te se ne parla poco di open web net neutrality è diventato non più di moda prima se ne parlava molto di più sì penso che sia questo secondo me abbraccia ma si abbraccia in una visione un po' più ampia e globale da quando il web è diventato la lavatrice cioè quella cosa che tu non sai neanche che esiste leggevo di uno studio che è abbastanza banale in realtà è intuitivo per cui i ragazzini più giovani non sanno neanche che cos'è la connessione i giga eccetera cioè loro hanno l'applicazione e vedono quella fine cosa c'è dietro non lo sa si è perso quel livello lì quindi credo che progressivamente diventerà una roba sempre più per nerd e addetti ai lavori queste cose di cui stiamo parlando molto più di prima paradossalmente molto più di prima sarà tutto più massificato ma i meccanismi eccetera la net neutrality questa cosa qui già solo spiegarla a qualcuno che non ha le conoscenze diciamo che abbiamo noi per esperienza perché l'abbiamo vista formarsi in varie stratificarsi ecco questa questa cosa del web diventerà sempre più difficile questa è proprio purtroppo una cosa molto preoccupante perché quando si perde la consapevolezza diciamo la società perde la consapevolezza di come già di partenza non partivamo particolarmente avvantaggiati da questo punto di vista nel senso che ce n'era poca ma man mano che si perde la conoscenza poi questi strati vengono anche distrutti a volte il principio della net neutrality di cui parlavi è fondamentale è una delle varie cose sotto attacco da anni da certi gruppi di interessi eccetera finché c'è qualcuno che dice no ma non potete è perché non può funzionare come ce l'avete in mente voi perché deve essere rispettato quel principio magari si potrà evitare che qualcuno riesca a minarla nel momento in cui ci dimenticheremo di che cosa significa perché non lo sapremo più ecco che si apriranno le porte a chi vorrà fare le cose a modo suo quindi sì sono preoccupato di questa cosa che tu rilevi che confermo sentivo diceva Tim Berners lì a Lisbona un paio d'anni fa che la penetrazione di internet era arrivata al 50% cioè 50% della popolazione umana aveva in questo due anni fa aveva accesso a internet quindi dicevo c'è l'altro 50% ora l'abbiamo sputtanata magari questa opportunità per metà ora abbiamo la possibilità comunque di un attimino riaggiustare almeno far sì che l'altro 50% dell'umanità conosca un internet un pochino migliore di quella che abbiamo costruito finora bene quello che fa Andrea Lombardi con la creazione della sua community del suo social network al di fuori dalle piattaforme facendosi lui stessa piattaforma secondo me Andrea è un atto fortissimo di affermazione della net neutrality molto più forte della semplice lamentela guarda i poteri forti perché tu stai facendo vedere che è possibile per una persona che ha delle idee che ha delle competenze che ha il desiderio di fare delle cose anche disposto a pagare le conseguenze come dire di quello che dice di quello che fa dicevi tu stesso magari mi incontrerò per strada e mi sputano invece che farmi complimenti per quello che dico per le idee che ho bene è l'affermazione che una persona che vuole comunicare che vuole sviluppare un progetto di comunicazione lo può fare in maniera coerente con se stessa grazie alla possibilità di essere presente sul web a prescindere dalle piattaforme le piattaforme le utilizziamo perché non è che dobbiamo fare poi i talebani ah no oddio è immorale andare su youtube no ma se no io la gente come gliela do la pillola rossa o la pillola blu la devo andare a pescare dentro la matrice altrimenti quella quando ci incappa per sbaglio in andrea lombardi punto it stavo passeggiando per il via del corso del web e ho incappato sono incappato in andrea lombardi punto it mi pare non tanto plausibile però una volta che io ti trovo ti do la possibilità facendomene carico di accedere all'informazione liberamente per quello che io posso fare ed è molto importante questa cosa che stai facendo dal punto di vista proprio simbolico dal punto di vista di esempio ecco paradigmatico per molti che invece pensano di poterlo fare solo all'interno delle piattaforme e poi magari si lamentano mi viene quasi a dire non vi lamentate ragazzi perché se avete costruito la vostra casa sulla sabbia io sono top youtuber top twitcher web star sei una persona che ha costruito una casa sulla sabbia e poi lo possono tenere per le palle in qualsiasi momento con una penalizzazione io mi ricordo le prime penalizzazioni algoritmi di google tanti anni fa quando ho iniziato a fare editoria online quello ti levava dal motore di ricerca e veniva da piangere perché di colpo non c'avevi più niente allora forse il web non è neanche google cioè google facebook youtube sono tutte sovrastrutture ma in fondo c'è il web che rimane comunque libero dove io posso andare su andrealombardi.it finora ancora non censurato direttamente dagli internet service provider e posso accedere e sostenere questo è un altro punto la responsabilità cioè vogliamo un'informazione di qualità la vogliamo senza fake news la vogliamo ci rompono le palle le pubblicità e però non vogliamo sganciare due euro un euro al giorno magari per il caffè ci prendiamo ventitré caffè però no l'informazione ma quella è fondamentale se tu vuoi avere un pensiero di qualità devi avere delle informazioni di qualità e anche un linguaggio per questo è molto importante è molto grave quello che avviene sulle piattaforme sulla censura del linguaggio perché io attraverso il linguaggio ti spingo a pensare in una certa direzione ti levo le parole e tu se non puoi usare più quella parola non puoi neanche più pensare quel pensiero e allora prendiamoci la responsabilità io sono ben contento lo dico sempre ai miei finanziatori è assurdo che non servono tanti numeri ora ti chiederò quante sono le persone che fanno parte della tua community e che razio c'è tra coloro che seguono il tuo progetto e coloro che investono nel tuo progetto pagando un mensile un annuale per entrare nel Pantoprazzolo Club quello che io dico sempre a chi segue strategia digitale è a me non me ne frega niente se è un dollaro due dollari dieci dollari cinquanta dollari quello che mi interessa è che tu ti alzi dal divano dell'essere fruitore passivo di quello che ti arriva addosso prima dalla televisione poi dal web e cominci a fare tu qualcosa quell'atto stesso di dire io sostengo questo progetto anche se non dovessi cioè io sono disoccupato però lo sostengo lo sostiene ai 50 centesimi l'euro che mi ci compro il caffè lo metterei su questo dimostra che gli esseri umani non sono ancora completamente assoggettati dal potere del digitale e dalle società che lo controllano che rapporto c'è quante sono le persone che stanno dentro al momento al Pantoprazzolo Club allora ci sono circa 200 account di cui paganti però sono meno e attivi al momento sono un po' più di un centinaio ecco per dare dei numeri che non è poco per i numeri che ho io nel senso che io non ho questi grossi numeri su Youtube cosa ho 23.000 iscritti o giù di lì e su Twitch un centinaio no 200 abbonati una cosa del genere ecco quindi mi sento di dire che è un buon risultato e l'altra cosa che mi sento di dire è che a distanza probabilmente con un ritardo di 10 o 15 anni rispetto magari all'oltreoceano come si dice mi sembra che qua ormai si sia capito o almeno tanta gente lo ha capito che c'è un motivo se uno ti dice faccio questo progetto e ti chiedo 8 euro al mese e mi sembra che la disponibilità nell'accettare questo scambio reciproco ci sia ad oggi cosa che magari 10 anni fa o anche solo 5 anni fa non c'era citavi il post prima io godo quando vado sul post godo a leggere il messaggio in cui loro invitano le persone ad abbonarsi perché è esattamente il messaggio da dare brutti e cattivi si fanno pagare io ti faccio un'informazione cazzo di qualità nel loro caso specifico la rendo anche pubblicamente accessibile quindi non mi potete dire no questa la facciamo solo per il club elitario però chi si prende la responsabilità molte volte puoi fare molto di più sostenendo un progetto di informazione che tu in prima persona facendola l'informazione ecco Andrea si è preso la briga di farla in prima persona di essere pure la persona che si prende lo sputo o l'insulto per strada per averci messo la faccia però dietro di lui ci sono tutti coloro che si vede che sono belli spartani incazzati belli pesanti perché quando si è arrivato qui per l'intervista sono arrivati in chat e hanno detto noi sosteniamo Andrea cioè questo è il tipo di sostegno che vale la pena di avere il like metti il like si cazzi del like fammi vedere se combattiamo insieme questa battaglia è molto importante lo segui come si chiama oddio Seth Godin il marketer c'è presente? sì sì l'altro giorno Seth Godin ha fatto un intervento per la piattaforma Streamyard che ha celebrato il suo primo evento online e ha introdotto un concetto che a me fa impazzire non più il minimum viable product che era un concetto diciamo dello sviluppo del product design cioè qual è il minimo che mi serve per darti il prodotto la GoPro sì va bene se è perfetta ma qual è la prima cosa che ti serve? mi servirebbe semplicemente un obiettivo una memoria e un esterno che resista agli urti poi quando lo facciamo ci mettiamo lo schermetto il wifi quello è tutto in più però il minimo è quello ecco la minima dose necessaria cosiddetta Seth Godin ha introdotto il concetto del minimum viable audience cioè quante persone quello che si deve chiedere secondo me oggi una qualsiasi persona che vuole sviluppare una qualsiasi cosa sul web non è come faccio a crescere su YouTube o come faccio a ottenere più follower su Instagram ma è quante persone mi servono per poter rendere sostenibile il mio progetto quante persone mi devono sostenere per riuscire a portare avanti questo progetto e molte volte queste persone non sono quelle le centinaia di migliaia le decine di migliaia che vediamo iscritti ai grandi canali sono molte di meno io ho un centinaio poco più di pazzi scatenati che mi sostengono su Patreon ma con quelli ho portato a casa più di 10.000 euro no di 10.000 di 100.000 euro nel tempo quindi ci sono singole persone che loro stesse una singola persona nel tempo ha contribuito al tuo progetto anche con 8.000 9.000 euro e c'è quello che invece è di 3 euro ieri sera tardi ma quello che importa è che queste persone hanno un valore potenzialmente enorme sono come una ghianda dalla quale può uscire fuori una quercia quindi le singole persone sono importanti e quello che ci hai raccontato sul rapporto la razio tra le persone che ti seguono e quelle che ti sostengono dimostra questo non serve fare i numeri della web star serve essere autentico con le persone costruendo qualcosa insieme come hai fatto tu infatti è bello che coinvolgi anche le persone come animatori della community e serve fare una informazione di qualità ti chiedo una cosa Andrea quali sono i tuoi progetti per il futuro cioè che obiettivo hai qual è la tua missione adesso te lo dico prima però ti aggiungo un'altra cosa io sono diciamo che apprezzo molto la teoria di Kevin Kelly non hai presente quella di 1000 true funds cioè se tu riesci ad ottenere di meno di 1000 oggi a volte anche di meno sì sì però la teoria è riuscirei a convincere mille persone a darti 100 dollari all'anno hai già fatto quello che dovevi fare poi puoi fare di più o puoi fare lo stesso con meno senza dubbio però ecco se tu sei in grado di espostare mille persone non è che sia una cosa così fuori dal mondo ecco assolutamente cosa i progetti del futuro ok i progetti futuri fondamentalmente non è niente di diverso da quello che faccio già se non portare quello che faccio già ad un livello successivo è tutto qui la faccenda cioè il livello successivo il livello successivo il livello successivo è farlo meglio con ho tutta una serie di persone per esempio che vorrei avere come ospiti a cui non posso accedere oggi o se vi posso accedere posso accederci in una maniera che non mi piace il problema è che allora è abbastanza normale che sia così se tu vuoi la visibilità è una moneta ok al di là del fatto che hai le mille persone che ti danno i 100 dollari o no la visibilità è una moneta nel senso che ti dà potere contrattuale non solo in termini economici ma anche con la possibilità di poter accedere a determinate attività che non faresti mai se non avessi visibilità quindi se io oggi voglio su youtube e su twitch hai accesso a una quantità incredibile di persone che fanno cose incredibili e con cui puoi avere a che fare tutta un'altra fetta di persone che fanno cose incredibili ti è preclusa se non hai appunto i numeri per poter contrattare il loro tempo il loro tempo vale e te lo concedono nel momento in cui sanno che lo stanno dando non a qualcuno che è più o meno intellettualmente onesto che più o meno gli tirerà qualcosa fuori di interessante ma qualcuno che a quel valore dia tempo anche dal punto di vista del ti do due ore della mia vita e però quello che facciamo lo vedono due milioni di persone ok ti do due ore della mia vita e lo vedono diecimila non te le do perché guarda posso andare in televisione in ogni momento siccome c'è tutta una serie di persone interessanti quelle mi piacerebbe riuscire un giorno prima o dopo a tirargli fuori delle cose che purtroppo vedo che magari vorrebbero tirare fuori ma non lo fanno e questa è una parte quindi significa portare i contenuti a livello successivo è una questione di garantirgli un'esposizione maggiore o di pagare la loro presenza a un'intervista o ad un intervento no di garantirgli una esposizione maggiore ok per dirti una cosa che ho capito io sabato scorso ho intervistato un importantissimo economista professore ultranoto arcinoto non farò nome ma insomma se lo facessi lo conoscereste tutti molto gentile molto gentile mi ha dedicato dieci minuti non so neanche il perché ho mandato un email ma figurati se mi risponderà ma risposto personalmente poi non sono riusciti a farla ma l'ha rimandata una volta ma alla fine ci siamo visti abbiamo fatto questa intervista una volta che ripeto gentilissimo chiusa ho capito che non la volevo pubblicare ma perché giustamente questa persona mi ha dato risposte che potevo leggere sulle mille interviste che aveva già rilasciato o sui libri che aveva scritto o potevo anche immaginarmele senza avergliele mai fatte le domande ma perché perché ovviamente io non vado da Andrea Lombardi che non so manco chi è e gli do risposte diverse dalle risposte telefonate è abbastanza normale che sia così ecco questa cosa secondo me è una di quelle cose che nel livello successivo invece dovrà succedere sempre meno ho capito quindi che devo stare a un livello più basso ma basso nel senso ripeto soltanto dal punto di vista della visibilità non per dire fa dare alte valutazioni e man mano però questa cosa deve crescere deve scalare ok questo è una delle cose importanti perché secondo me ti consente di fare contenuti più interessanti migliori e che ti fanno crescere è una cosa è questa la seconda è migliorare comunque sempre il prodotto nel senso che io non sono mai soddisfatto adesso cosa faccio principalmente ecco questo non l'ho detto io faccio tutti i giorni una rassegna stampa tutti i giorni e dei contenuti di approfondimento la rassegna stampa può essere fatta meglio il livello successivo è farla meglio riuscire a strutturarla in maniera un po' più delineata adesso ancora non ci riesco è un po' una cosa che è un divaga di giorno in giorno insomma il livello successivo è il contenuto che deve essere migliore fondamentalmente è questa roba qui ok vorrei poter aumentare la produttività quindi avere delle persone che mi danno una mano sia magari mi liberano un po' la mattina perché sennò realmente devo per diminuire la possibilità la probabilità di dire cazzate che poi le dici comunque io sto dalle 6 e mezzo più o meno del mattino fino alle 12 e 30 quando inizia la rassegna stampa a cercare di capire cosa scrivono i giornali di cosa parlano cosa dicono effettivamente esattamente qual è la realtà dove stanno le cose è una roba abbastanza impegnativa se qualcuno una parte la facesse per me io potrei liberarmi per pensare ad altre cose perché ho in mente tutta una serie di contenuti da fare che al momento per motivi molto pratici non posso fare ok e questo per me a livello successivo non è non ti immaginare cose mirabolanti dove dopo il social network voglio fare la televisione no voglio fare questo ma meglio più tutta una serie di attività collaterali prima parlavi per esempio del sarebbe difficile e complicato fare lo streaming sul tuo server e no ci sto lavorando in realtà è complicato è costosissimo è estremamente costoso ha un sacco di complicazioni cose che possono andare storte e che vanno storte ma è una cosa a cui sto pensando non so se riuscirò a farla quando come in prospettiva comunque c'è anche quella roba lì ecco è un po' questa roba io la vedo un po' come un'azienda editoriale diciamo questa attività e quindi mi devo concentrare necessariamente sul contenuto e la forma però mi piace diciamo che video e dirette newsletter e articoli sono le quattro cose che mi interessano Andrea come lo vedi il podcasting? Podcasting immagino inteso come tradizionalmente podcasting audio diciamo duro e puro senza la parte video allora come lo vedo in generale non per me intendi nel senso tu come lo senti ascolti i podcast è una piattaforma che ti fa sentire a tuo agio come lo vedi tra gli altri canali di comunicazione? sì lo ascolto ne fruisco il problema è che non è così semplice da fare come magari qualcuno che inizia a farlo pensa di farlo non è che se sai fare i video sai fare podcast ecco questa è una cosa che secondo me non è adeguatamente sottolineata sono due cose diverse quindi lo seguo e molto spesso mi rendo conto che sto ascoltando l'audio di un video e la cosa mi infastidisce parecchio però ci sono dei progetti oggettivamente fatti molto bene nel mio caso proprio perché mi rendo conto che è una cosa diversa che andrebbe fatta in una certa maniera non la faccio poi me lo chiedono perché qualcuno viene comodo le rassegne stampa sentirle anziché guardarle io glielo carico il podcast ma sapendo che non è un podcast cioè quella roba lì è l'audio del video che io gli metto sopra per comodità e a quelli 50-100 che lo vogliono ascoltare così che se lo ascoltino così va bene pazienza ecco io a fronte di un grande entusiasmo che c'è stato negli ultimi due anni diciamo questo ritorno di fiamma sul podcasting adesso mi sembra che si sia già un po' spenta l'attenzione ma forse è una cosa positiva nel senso che proprio per il suo bene forse è una cosa buona nel senso che andrà su queste piattaforme poi non so i numeri e io sto parlando esclusivamente di mia sensazione quindi magari i numeri mi smentiscono la mia sensazione è che rispetto tu c'eri sì perché sei tra gli organizzatori credo del festival del podcasting giusto ecco cos'era il 2018 19 quello che abbiamo fatto a Milano c'ero anche io lì era era il momento al tag lì mi ricordo che era proprio il momento forse apice culmine di questo di questa attività adesso mi pare che boh forse l'anno scorso è esploso Twitch e quindi tutti quelli che si muovono da una parte o dall'altra a seconda della moda sono passati su Twitch e quindi questa massa si è un po' asciugata ma è ripeto una cosa buona perché probabilmente ci rimarrà soltanto chi lo vuole fare seriamente e io continuerò ad ascoltarli perché il modo di fruizione è fantastico quando è compatibile con quello che sto facendo vado a correre in collina ascolto il podcast io tutti i giorni faccio la mia oretta e mezza ascolto il podcast ok non lo voglio fare semplicemente perché ah vabbè io mi ascolto più che altro roba americana ultimamente quindi mi ascolto tutti i giornali americani che fanno i podcast mi ascolto il New York Times che non mi piace però è un grandissimo progetto editoriale mi ascolto i podcast del Washington Post mi ascolto tutte queste cose pallose assolutamente che non consiglio a nessuno se siete già noiosi li conoscete già se non lo siete ascoltate altro soprattutto mentre correte è corretta la mia analisi oppure è solo una mia sensazione alterata dal mio punto di osservazione guardi in realtà i numeri dicono il contrario perché sta continuando a montare e secondo me non l'abbiamo potuto vedere fisicamente almeno dal punto di vista del festival che è una grandissima cartina tornasole solamente a causa della pandemia quindi non c'è stato fisicamente come dicevi tu nel 2019 la possibilità di vedere le stanze piene le persone fuori a monticchiate che vogliono partecipare diciamo ma sai che eravamo quattro catti fino a due anni fa e ora la gente non c'entra più quindi comunque c'è un interesse sempre crescente questo interesse corrisponde anche alla visione di opportunità di business da parte delle piattaforme di tutti coloro che offrono servizi quindi c'è anche molti più soldi per dire la propria terra terra molti più soldi che girano intorno a questo mondo ti fa onore ed è molto bello che tu lo abbia detto il vedere il podcasting come una realtà a sé e non come la mera distribuzione di quello che stavo facendo nel video e per comodità me lo sento lo distribuisco anche in audio tramite il podcasting quindi vedere nel podcasting una autonomia dal punto di vista del comunicativa dal punto di vista dei linguaggi e della funzione delle persone che può raggiungere anche se nessuno me lo leva dalla testa io per esempio ti ascolto difficilmente guardo il video vado in solo audio magari metto il video lì ma sto facendo altre cose ti ascolto moltissimo e ogni tanto mi dimentico che ti sto seguendo su Twitch mi sembra quasi che è un podcast quindi nel tuo caso particolare trovo che il formato si adatti molto bene anche al al mondo del podcasting e beh perché è un format molto radiofonico ma è stato pensato così dall'inizio e anche lo studio è piuttosto radiofonico quindi sì è molto basato sull'audio questo senza dubbio chiaro che se però sapessi di essere in una radio e quindi di essere soltanto in podcast comunque mi comporterei diversamente mi stupisce questa cosa delle numeri sono anche vabbè ci sta la cosa di cui sono felice allora è che ho smesso di vedere o almeno allora sono fuori solo dalla mia orbita tutti i vari progettini ho aperto il podcast sui misteri italiani tre puntate con l'audio che non si sente in cazzo la sigla queste cose io non le ho più viste recentemente quindi pensavo si fossero spostati tutti sono arrivati grandi progetti c'è grandi investimenti editoriali quindi è cresciuto di livello bene allora questa è una cosa positiva c'è grosso investimento anche sui cosiddetti talent cioè ti prendo il personaggio televisivo ti prendo il personaggio che ha una sua audience del mondo non digitale e te lo porto pensiamo solo non so se l'hai ascoltato il podcast che hanno fatto i The Jackal su Sanremo no ecco quest'anno Spotify ha finanziato questo progetto tutto Sanremo ma dura di meno e quindi con i The Jackal un podcast original quindi quando ci cominciano a essere gli investimenti sugli originals vuol dire che c'è abbastanza grano in questo campo Andrea chiudiamo con due suggerimenti uno sui libri che secondo te vale assolutamente la pena di leggere oggi per utilizzare il digitale orientarsi nella società digitale in maniera consapevole per utilizzare il digitale mamma mia che domanda perché ne ho letti tantissimi ho solo una libreria piena solo di libri del digitale ma mamma mia è una domanda veramente difficile perché l'universo allora l'universo di questi libri qua il problema è che riflette l'ambiente del Mark cioè quello che ho detto prima tanti di questi io ho libri su cose estremamente specifiche no il marketing delle viti però solo quelle cromate non quelle brunite che sono tutti uguali tutti uguali sono fatti apposta ovviamente perché è una delle regole base del marketing specializzati su una cosa colpisci un target singolo quello che ha bisogno di spingere le viti cromate sicuramente troverà il tuo libro più calzante rispetto a quello generico e quindi soffre molto questa cosa qui ma sai che ci devo veramente pensare allora sicuramente un ottimo libro è quello di Seth Godin quello quello arancione come si chiama this is marketing ecco this is marketing this is marketing non è propriamente sul digitale ma secondo me riassume molto bene tutta la parte importante scevra da tutte le minchiate ah ce l'ho un libro bellissimo adesso te lo dico però questo rimane secondo me per chi non ne sa niente forse l'unico libro da leggere non leggetene altri perché se no vi riempiono la testa cioè non è che dico che sia l'unico fatto bene ma questo sicuramente è fatto bene e in quelle idee strane sì perché se no guarda ne trovi miliardi di libri passi la vita a leggere senza mai fare niente quello ti dà le informazioni base corrette giuste interessanti e scevra da ogni cazzata poi da lì in poi si può costruire tutto un altro libro fantastico però non è proprio sul digitale non so se ti interessa comunque è un po' più lato marketing ma è l'approccio l'unico approccio da seguire ecco questo è fondamentale allora il libro è è un libro di Marco De Veglia il nome adesso te lo cerco subito perché non me lo ricordo memoria zero concorrenti bravo zero concorrenti che è il nome buttato così sembra una di quelle cose che dici bah in realtà non è bah in realtà è un ottimo libro sul branding specificatamente sul branding ma che ti spiega una cosa molto semplice cioè il posizionamento che è quello che tutti sbagliano che non fanno mai perché è complicato una rottura di palle banalmente detto in due parole perché devo comprare una BMW e non una Mercedes in fondo se tu guardi sono più o meno la stessa macchina il segmento è quello la potenza è quella però chi compra BMW non compra Mercedes e chi compra Mercedes non compie BMW come hanno fatto cioè magari io voglio fare un progetto come il mio mi metto un microfono e parlo di politica attualità ci sono altri che lo fanno per carità in Italia non sono tanti ma qualcosa c'è c'è Breaking Italy per esempio c'è qualcun altro ci sarà però uno deve chiedersi perché se lui è la Mercedes io voglio diventare la BMW non posso fare l'errore di dire quella cosa mi piace magari non la voglio copiare però la voglio fare anche io devo chiedermi in cosa deve essere diverso perché deve essere diverso altrimenti io cerco di costruire la Mercedes ma c'è già e tra la copia e l'originale la gente sceglierà sempre l'originale quindi quel libro è fondamentale per capire questa cosa cioè perché tu anche veicolando un prodotto un progetto che è sostanzialmente la stessa cosa di un altro devi fare in modo che la stessa cosa non lo sia devi rivolgerti ad un pubblico comunque differente per trovare la particolarità che ti rende un'azienda diversa o un progetto diverso un marchio diverso e questo secondo libro secondo me lo fa molto bene Marco De Veglia è in effetti però l'altro un super esperto nel campo poi 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 vediamo se mi viene in mente qualcos'altro così su due piedi faccio una gran fatica anche perché ormai sono anni che non leggo più libri né di digitale né di marketing perché guarda io veramente ne ho film sopra ti do un bonus a prescindere dal digitale e dal marketing un libro che serve oggi per vivere bene nel mondo in cui viviamo vivere bene nel mondo in cui viviamo allora non c'è un libro il panto prazzolo il panto prazzolo il panto prazzolo senza dubbio quello due pastiglie al giorno non te ne leva nessuno ci sono tanti libri che ho letto recentemente che trovo molto interessanti però ripeto io leggo cose molto specifiche e principalmente saggi di politica e cose di questo tipo allora ho trovato molto divulgativo e interessante però non c'entra niente diciamo sono dei più storici eccetera ho trovato molto interessanti i vari libri M avete presente no? il figlio del secolo di Scurati sì esatto bellissimi molto ben fatti molto che ti portano dentro ad una storia che tu hai sempre visto in un certo modo e in realtà calandoci dentro come se fossi un film capisci le dinamiche è un libro che mi ha molto colpito quello l'ho letto sul finire dell'anno scorso e lo consiglio sempre a tutti quanti per guardarsi un film della storia cercando di capire gli avvenimenti per come sono avvenuti realmente nel senso del dal punto di vista proprio delle dinamiche sociali e personali anche e lei fa anche il seguito di quello lì? l'ho letto non l'ho ancora finito ma lo lo sto leggendo sì ok com'è il seguito rispetto a M? è esattamente uguale cioè non delude e va avanti nello stesso modo tu le hai letti no ho ascoltato M su che era? Storytel o Oudible ci avevano l'audiolibro quindi ho ascoltato l'audiolibro e mi è molto piaciuto ho visto il libreria qualche giorno fa il seguito e quindi eravo curioso il tradotto a M vincitore del premio strega che sarà stato del di che anno? 2019 forse credo sì credo 2019 quindi ottimo libro ok allora invece mi dicevi prima voglio accedere a delle persone importanti delle persone che sono secondo te da conoscere ecco tre persone che magari segui online o che sono per te di ispirazione o chi sono degli amici e che stimi tre persone che noi vogliamo da Lifehacker intercettare sul web iniziare a seguire per vedere le cose in maniera diversa chi sono? diciamo magari proviamo un po' di vari ambiti diversi provo a darti qualche idea così posto che come ti ho detto prima io in realtà paradossalmente cerco di non seguire tanto YouTube cerco di non seguire tanto Twitch perché ho capito una cosa primo che ho poco tempo ma non è questo il fatto perché fosse solo questo non sarebbe il problema la cosa veramente importante è che io non voglio avere troppi condizionamenti da parte di chi fa cose simili alle mie perché vuoi o non vuoi se tu segui gli altri cioè ci pensi a quello che dicono e in un modo o nell'altro ti influenza e quindi ho scelto di farlo molto poco ma vi consiglio visto anche diciamo i temi che tratti tu e quello di cui vi occupate ma spero che in realtà tanti di voi già lo conosceranno molto probabilmente seguiti ovviamente il grandissimo Giorgio Taverniti perché Giorgio Taverniti secondo me fa un'opera assolutamente unica e meritoria di divulgazione e ha una visione allora ha una visione del mondo che è molto spesso completamente opposta alla mia questo lui lo sa ce lo siamo detti tante volte ma per quel che riguarda il web non su tutto ma su tante cose sono sicuramente d'accordo con lui e anche su quelle in cui non sono d'accordo comunque apprezzo il modo in cui le porta avanti e secondo me fa un lavoro straordinario quindi Giorgio Taverniti top assoluto da seguire assolutamente per chi si interessa appunto di temi relativi al digitale al web e a queste cose qui poi dico sempre che lui è il San Girolamo del web cioè colui che si ritira nella grotta in terra santa e traduce la Bibbia in latino cioè ha fatto in questi anni un lavoro pazzesco tra le cose che ha costruito sul web gli eventi cioè da poco ho sentito l'annuncio del web marketing festival in giro per il mondo a volte mi viene da dire ma come te va cioè nel senso se è fatto veramente il mazzo ma lo fa con coerenza convinzione e equilibrio da ormai 20 anni veramente grande sì sì assolutamente vero infatti infatti tanta stima per il buon Giorgio Taverniti e insieme a lui ma che cosa cioè siamo praticamente in casa di amici Andrea Ciraolo sta facendo anche lui secondo me un grandissimo lavoro poi vi consiglio invece uscendo dall'ambito un po' digitale e tecnologico di seguire l'ottimo professore Michele Boldrin si può essere d'accordo oppure no con quello che dice è un grande economista italiano vive negli Stati Uniti ho avuto il piacere di averlo ospite ed è un signore di 60 e passa anni che da appunto la sua posizione di professore negli Stati Uniti ha deciso anche lui secondo me diciamo con lo stesso spirito di Giorgio Taverniti anche se chiaramente da posizioni diverse di fare della divulgazione in ambito economico poi per carità a volte fa anche contenuti dove racconta la sua opinione però è abbastanza intellettualmente onesto e soprattutto distingue molto bene la sua opinione dal suo campo di competenze e lo mette sempre in chiaro e quindi ve lo consiglio perché fa una cosa che purtroppo non viene fatta granché in Italia e cioè fa divulgazione in un ambito che in Italia è completamente sputtanato l'economia e anche la cultura finanziaria in Italia come sapete non è molto sviluppata ecco io credo che sia una persona da seguire fa peraltro contenuti con costanza e quindi ve lo consiglio al di là del fatto che possiate tranquillamente anche essere in disaccordo con quello che dice io è una di quelle persone che ritengo assolutamente una ispirazione quotidiana e anche lui come Giorgio Taverniti con lo stesso diciamo spirito trovo che vadano facciano bene insomma ascoltare questi punti di vista per l'impegno che ci mettono il terzo sta facendo su Twitch sta lavorando giusto anche ho visto che si è buttato su Twitch sì però vedo che fa i contenuti alla mattina perché lui forse là dove sta lui è sera o notte e quindi qua l'ho trovato affascinante su Twitch anche nel modo di condurre la cosa come un discorso quasi non neanche stiamo al bar cioè stai qua seduto sulla scrivania e pane pane e vino al vino cioè non è che te la dico te la mando a dire te la dico diretta cioè anche quando si incazza sui commenti no ma che commento hai fatto ma questo evidenzia quanto sei chiuso di mente vabbè rispondo lo stesso fantastico sì si incazza molto eh la terza persona è un canale che secondo me merita purtroppo non sta emergendo molto anche se c'è da qualche mese è ormai forse un po' sconosciuto ma anche lui è una persona di grande esperienza un ex parlamentare che lavora molto con l'Africa si chiama EurAfrica il canale e dà degli spunti molto interessanti sulla politica sia dei paesi africani sia del loro rapporto con l'Europa secondo me va seguito anche lui di di estrazione praticamente opposta a quella di Michele Boldrin anche lui diciamo si può essere d'accordo o meno ma dà informazioni preziosissime che non si trovano molto in giro rispetto ad un'area del mondo che è strategica per mille punti di vista da mille punti di vista e che è fondamentalmente o snobbata rispetto al modo in cui la tratta lui oppure trattata in modi che per carità sono necessari magari da affrontare in un certo modo Diego Masi Diego Masi ma il canale si chiama EurAfrica lui Diego Masi è appunto l'autore sia di un paio di libri sull'argomento sia di questo canale YouTube che io mi auguro che cresca perché secondo me merita di crescere al momento è ancora piccolo ma vedrete che lo troverete senza dubbio interessante questo è il terzo Andrea non so come ringraziarti guarda non è per niente scontato ricevere così tanto valore visione ispirazione da una persona che non te conosce potrebbe dire a me che me frega di venire a raccontare queste cose quello che hai fatto è stato molto molto generoso nei confronti di tante persone che anche si sono rispecchiate in quello che dicevi nelle persone che vedranno poi anche la tua intervista o l'ascolteranno tramite podcast nel futuro quindi veramente ti ringrazio a nome mio è stato bellissimo passare questo tempo insieme ti ringrazio a nome di tutta la community dei life hackers e delle persone che seguono strategia digitale noi con la chat ci vediamo tra poco anche per fare un bel ride io ti saluto e ti auguro veramente il meglio per i tuoi progetti ti continuo a seguire con affetto e intensità grazie mille a te è stato un piacere e spero di averti ospite in un nuovo format che sto progettando diciamo adesso quando vuoi sono l'intervista del martedì sera impegno solennemente va bene allora ci vediamo presto ti ringrazio è stato un piacere a presto ciao a tutti ciao strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie a tutti